la vecchia strada che passava da Stilomo Erna troviamo un'altra caverna occlusa qui era in cima dell'angolo quello su in cima in cima era il vecchio acquedotto che veniva usato dai militari che dopo fu rimodernato fu sistemato durante il periodo moderno qua sopra invece sopra quel muro la vi era su un presidio esattamente la dove c'è ancora la roccia intagliata e anche qua sopra qua sopra esattamente lì sopra la roccia vi era su un altro presidio militare